Ci troviamo al Timeto Resort, una struttura nata da qualche mese che serve da stabilimento termale. Si trova nelle colline di Patti e offre un servizio importante dal punto di vista salutare. Arrivano persone da tutte le parti della Sicilia, non solo dalla provincia di Messina, per trascorrere qualche giorno di relax nel centro benessere e fare anche le cure termali per la salute. Andiamo adesso a parlare con alcuni degli ospiti della struttura che sono giunti qui da poco, un viaggio organizzato per passare, trascorrere qualche giorno di relax facendo il centro benessere, i fanghi e le cure termali. Ci troviamo al Timeto Resort, sono arrivati gli ospiti, siamo con la signora Giulia che ha voglia di parlare. Buongiorno a tutti intanto, è la prima volta che vengo qua, vi devo dire che è veramente un bel locale, non lo so come si mangia, mi hanno detto che si mangia bene. Comunque sono contenta veramente, mi piace la struttura in un modo perché è la prima volta che esco. L'impatto è bello qui? L'impatto sì sì, e pure lei che mi sta intervistando, il signore, tutti, l'unica veramente che non mi dovrei portare dietro sono le mie amiche che sono gelosissime. E sono quelle le sue amiche? Sì sì gelose. Ma da dove venite? Noi veniamo da Caltanissetta. Ah quindi avete fatto un bel viaggio, un bel viaggio, un bel viaggio. Siete qua per rilassarvi? Sicuramente, spero di rilassarvi. Come avete fatto a conoscere il team Edo Reso? Devo essere sincera, io non lo so, mi ci hanno portato, sono qua, sono contentissima. L'hanno portata dai suoi amici o l'hanno rapita e l'hanno portata? No, io non mi faccio rapire da nessuno. Le sue amiche? No, no, neanche, neanche, sono loro le colpevano. No, 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 loro non c'è, sono io che li ho portate, loro non c'entrano niente. Un weekend per rilassarvi? Sono contentissima di essere qua. Voi siete contenti insieme alla signora di essere qua? Certo, sì, grazie. Nome? Irene. Tutti da Caltanissetta? Sì. Come avete scoperto il team Edo Reso? Con una gita organizzata. Quindi cosa vi aspettate? Tutto. Tutto, quindi relax, persone sorridenti? Speriamo, perché noi siamo così, quindi vogliamo giocare. Ma infatti, si vede, l'accoglienza è buona. Sì, sì, sì. L'impatto con la struttura? Bella. E poi è nuova, ancora da poco tempo aperta, quindi siete fra i primi a godere di questo spettacolo. Sì. Centro benessere, sicuro. Sì, sì. Qualche massaggino? Sì, occorre pure. Sì, la sua amica lontana però. No, vicina. No, no, vicina, vicina. Come lei ha detto di meglio lasciare... No, noi siamo inseparabili. Inseparabili, bellissima. Allora, vi auguro un buon soggiorno all'attimetore resort e spero di vedervi magari in futuro. Sì, molto gentile, grazie. Grazie a voi. Ciao. Sì, sì. Chi ti ha portato? Chi ti ha spinto a venire? Amici. Amici. Quindi speriamo che abbiano fatto bene. Speriamo, se no poi gli diciamo parola. La telefonata... Chissà se la telefonata è finita. O beh, la telefonata è finita. Ciao, come ti chiami? Darien. Vieni da... San Gataldo. Come mai hai scelto il Team Edo Resort per fare il Ponte dell'Immacolà? Perché era un modo diverso di passare un weekend. Staccare un po' la fina... Ci vuole. Sì, ci vuole. Relax, ma è la prima volta che vai in un centro benessere. Sì, sì, la prima. Cosa ti aspetti? Relax, serenità, tranquillità. E nessuna intervista. E nessuna intervista. Quindi la prima aspettativa è andata. È andata. Ma siamo convinti che le altre ci saranno invece, perché comunque la struttura è bella. Il primo impatto com'è? Bellissimo. Buona permanenza al Team Edo Resort. Grazie. Ciao. Signora, benvenuta al Team Edo Resort. Grazie. Allora, cosa si aspetta da questa vacanza, questa struttura? Mi aspetto un po' di... A parte un po' di tranquillità, un po' di serenità, diciamo, stacchiamo la spina dalla solita routine. Ci vuole ogni tanto. Sì. Quindi anche col centro benessere ci rilassiamo un po', siamo in compagnia, speriamo di divertirci, di passare anche una bella serata. Stasera si ballerà. Come ha conosciuto il Team Edo Resort? Tramite un nostro amico che organizza... No, quindi è la prima volta che viene qui. Sì, sì, a parte sì, è la prima volta. Ma fate spesso giri in queste strutture, tipo centri benessere, per staccare la spina, rilassarsi e non pensare a nulla? Sì, loro sì, noi diciamo che è la seconda volta. Sì, siamo tutti di Caltanissetta, dal centro della Sicilia arrivare il rival Tirreno. Provinge di Caltanissetta, quindi San Cataldo, Caltanissetta, Enna e poi siamo in tre di Milena, sempre provincia di Caltanissetta. Buona permanenza al Team Edo Resort. Sì, molto gentile. Buongiorno, signor Antonio Melilli. Dopo tante donne, purtroppo pure i maschietti. Struttura al Team Edo Resort per rilassarsi? Sì, per vedere come è una struttura nuova, vedere come è funzionante, anche per rilassarsi. Primo impatto? Ottimo, devo dire, è un primo impatto allegro, speriamo che il proseguo sia allegro come è stato l'ingresso. Al di là dell'allegria, quali sono le attese di questa vacanza? Attese non lo so, ripeto, speriamo che tutto funzioni per il bene, sia per il meglio, perché dopo l'albergo è tutto nostro, si può dire. E quindi la signora Giulia torna. È bello. Tutto nostro che siamo 55, quindi abbiamo preso tutte le camere. Bellissimo, fra amici. Quindi una bella scampagnata. Un bel weekend. Perché siamo in aperta campagna. Perché siamo in una zona particolare, poi si domina un panorama, ma non so se avete già avuto un modo di vedere. Sì, siamo stati. Conosciamo la zona, conosciamo la zona. Rimarrete tutto il tempo nella struttura? Presumo di sì. Rimarrete tutto il tempo nel centro benessere? Sì, sì, fino a domani dopo pranzo. Bene, ok. La ringrazio, una buona vacanza, buona permanenza al team da l'Ase. Sono gentile, grazie. Grazie.